Smaltita, speriamo, la sbornia turca, l'umana Reier Venezia torna alla realtà del massimo campionato di basket, in cui l'auspicio è che la lezione di martedì a Smirne abbia sortito un effetto scatenante. Perice compagni, reduci da una delle più pesanti sconfitte numericamente parlando del sodalizio lagunare tra Italia ed Europa, sono attesi domenica pomeriggio al tagliercio di Mestre contro la Germani Brescia, matricola terribile che dopo il dazio pagato nelle prime giornate, si è trasformato in un autentico spauracchio della serie A1, come conferma anche coach De Raffaele. Domenica arriva Brescia, una partita contro una squadra in grande condizione, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite con scalpi eccellenti, l'ultimo Reggio Emilia ma andando anche con personalità a provare a vincere a Creserta fino alla fine, quindi già questo la dice lunga su quanto Brescia dopo un inizio difficile abbia trovato equilibrio. Quindi tutte queste cose rendono la partita una partita come tutte queste di questo campionato difficile da affrontare con grande attenzione perché, ripeto, Brescia è una squadra che ha qualità e che è in grande condizione. Noi siamo ancora alle prese con un po' di problemi, a cominciare da Tonut, però insomma dobbiamo andare avanti e cercare di fare una partita secondo me di grande intensità aiutati anche dal nostro pubblico che sarà come al solito molto molto importante per trascinarci. Sempre a proposito del massimo campionato da seguire anche l'impegno interno dell'altro quintetto triveneto Dolomite Trento che ospita sempre domenica pomeriggio a partire dalle 18.15 Open Job Metis Varese pure ridimensionata da una deludente prestazione in Europa.